Guarda, qua si uniscono tante cose positive, la prima è fare qualcosa che può aiutare qualcun altro, la seconda è che ci gioca in uno stadio come San Siro, che è uno stadio dove tutti sognano di giocare, i giocatori, figurati chi non è giocatore, la terza che sono interista, oggi quindi sarei felicitato, sono contentissimo, notare ieri preso dalla foca dello scudetto, ho tirato un calcione alla porta, mi sono spaccato il piede, mi fa malissimo. Non servono le scuse per dire come giocare in uno stadio? Non lo so, non lo so, mi atterrò a fare il bravo giocatore, non andrò in transagonistica, ti posso dire solo questo.